bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi siamo di nuovo su clash royal ragazzi siamo in alcuni giorni dove c'è il baule del clan in corso e soprattutto siamo in una fase molto importante di clash royal perché domani 3 dicembre ci saranno a londra le finali mondiali ne abbiamo già abbondantemente parlato probabilmente domani andremo anche noi in diretta a commentarle assieme ma oggi ragazzi il video voglio dedicarlo al baule del clan e sì ragazzi perché mentre il baule del clan è ancora in corso noi l'abbiamo terminato in poche ore e quindi volevo aprirlo insieme a voi in questo video per avere anche un po la vostra fortuna nel trovare una leggendaria non sarebbe male trovare un bel mago di ghiaccio ma anche se in realtà mi piacerebbe trovare il drago inferno perché sono molto molto propenso ad inserirlo nel deck magari sostituendolo al cavaliere o ai goblin ho visto che è veramente veramente molto molto forte beh ragazzi prima di buttarci a salmone nell'apertura del baulozzo del clan andiamo a farci una bella 2v2 con il nostro compagno di squadra che fa parte anche del clan dei suini di xiu tra l'altro vi ricordo siamo rientrati in top 200 da qualche giorno a questa parte bazzichiamo tra la centottantesima e la centonovantesima posizioni nella top 200 italiana attenzione subito di prepotenza l'oro con uno grader che noi andiamo prontamente a fermare parte la ripartenza col nostro grader bellissima bellissima quella fireball quindi bella giocata assolutamente andiamo a zappare andiamo a zappare e subito i danni pesantissimi del nostro grader danneggiano la torre portandola fino a 1540 attenzione al mago elettrico attenzione al mago zapp e non lo tira non lo tira non lo tira allora noi andiamo dietro con un moschettiere prepariamo già una mega ripartenza vediamo di stare molto molto attenti il rocket per l'oro eccolo lì drago inferno di cui parlavo appunto poco fa eccolo il drago ancora un rocket incredibile incredibile secondo rocket per l'oro allora questo punto partiamo noi partiamo noi a questo punto non facciamo assolutamente che il drago possa andare a tirare giù il nostro gigante royal che porta infatti la torre a 175 e drago inferno ancora molto molto cattivo grader che è stato spostato con il vortex ragazzi e subito intromissione del nostro drago a livello 2 viene fermato invece da una improbabile gang di goblin attenzione attenzione dobbiamo andare a fermare bellissimi quegli spiriti del fuoco bellissimi quegli spiriti del fuoco è attrettanto bella ragazzi la combo goblin e spirito del ghiaccio che ha fermato appunto il suo hog rider attenzione attenzione siamo già messi molto bene praticamente quasi inviolate le nostre torri anzi inviolate quella di destra quella di sinistra ancora toccata leggermente 1550 pensavo un po meno sinceramente vai che ripartiamo di nuovo vai che ripartiamo di nuovo col quartetto di truppe attenzione entra anche un bocciatore loro giocano un bellissimo vortex per andare a deviare tutte le truppe e raggrupparle sulla boccia del bocciatore che infatti ha avuto molto effetto 2289 il loro castello centrale apertura da dietro con dei non si è capito bene perché quartetto di barbari andiamo a danneggiare la torre facciamo così e facciamo così bisogna andare a fermare subito quel gigante royal lo andiamo a congelare e a stoppare insieme alla torre lo portiamo a 550 io continuerai invece a infierire sul castello centrale con log rider che in questo momento a modo di partire andiamo a zappare sul drago inferno bene anche la fireball 1053 777 in questo momento il loro castello centrale attenzione attenzione potremmo andare a tirarlo giù loro ci tirano giù esatto con il doppio rocket era ovvio era ovvio abbastanza ridicola come giocata ma era anche abbastanza ovvia loro vanno con la scintillozza andiamo a sparare andiamo a sparare sulla scintillozza non abbiamo nessuna fretta possiamo andare anche a scaricare ancora portiamo a 284 la torre partiamo molto dietro molto dietro qua serve solamente una nuova fireball è una nuova scarica per andare a chiudere la partita che dovrebbe essere già nostra ma credo che la fireball di checa lascia la torre all'otto incredibile e allora andiamo a chiuderla così ragazzi si blocca tutto si blocca tutto ma invece tiriamo giù le tre torri con la fireball beh ragazzi beh ragazzi super partita super partita bella giocata al nostro super checa ragazzi e direi che il momento è veramente giunto andiamo a vederlo andiamo a vederlo assieme andiamo a vederlo assieme questo volozzo del clan si era bloccato un attimino lo schermo 13 arcieri per noi mi sembra di aver preso non ricordo neanche quanto gold 6 skip 27 orde di sgherri queste non ci servono queste non ci servono 42 goblin lanceri anche questi non li usiamo però li ho visti giocare in certi modi soprattutto giocati in combo con gli altri goblin mamma mia mamma mia avanti con le rare 12 mega sgherri anche questi non sono usati nel mio deck 15 mini pecca niente da fare d'altro mini pecca quasi a livello 10 ne abbiamo quasi 400 su 800 e non c'è ancora la leggendaria nessuna leggendaria per me ragazzi speriamo che almeno le epiche siano o delle poison o delle gelo attenzione invece sono tre principi veramente veramente inutile questo baulozzo del clan beh ragazzi prima di lasciarvi andiamo a farne una invece one versus one con questo deck in rank ed andiamo a arrancare un pochettino vediamo di portarci a casa il risultato per arrivare a 4530 coppe non sarebbe male siamo contro voglio in boy della commerce loro noi con un cavaliere apriamo noi con un cavaliere a sinistra che sempre una buona apertura vediamo lui come risponde con un cavaliere anche lui attenzione ora andiamo con lo spirito del ghiaccio invece a destra pronta anche la combo pronta subito la combo golem del ghiaccio og rider dietro e buona per lui avrà il vortex avrà il vortex sicuro questo qua e infatti eccolo lì il vortex eccolo lì il vortex subito log rider va ad attivare la torre centrale grandi problemi per me in questo frangente lasciamo pure che la torre se la veda col suo cavaliere e infatti infatti qua andrei a spostare andrei a spostare e a giocare anche no potevo evitarmelo questo spirito del ghiaccio potevo evitarmelo volevo però tirare giù velocemente il boy a tentare subito una grande ripartenza ragazzi con il golem del ghiaccio log rider che brutto deck c'ha anche il bocciatore e qua è un po un problema ragazzi qua è un po un grande fastidio ma il mio moschettiere seppur a livello 9 può andare a fare veramente un sacco male al suo bocciatore che rimane praticamente senza tanta salute andiamo comunque a mettere una coppia un moschettiere di qua per fermare la coppia di arceri benissimo benissimo e lascerei passare 2410 aspettiamo di recuperare un pochettino di elisir lui rigioca il boia quindi ancora disponibile il vortex niente lasciamo passare lasciamo passare e dobbiamo assolutamente lasciare passare mettiamo un tris di goblin dall'altra parte cavaliere sul boia e di nuovo andiamo di qua invece a fare la comba andiamo di qua ok lui gioca il cavaliere ragazzi noi giochiamo un po male giochiamo un po male qua io tento comunque uno spirito del ghiaccio il suo e drago inferno aveva locato il mio grader andiamo a fare un super r target e anche con il mitico spirito del ghiaccio riusciamo a portare a 1082 la sua torre di là attenzione abbiamo fermato cavaliere potremmo evitare di fermare questo cavaliere e andrei di nuovo con il moschettiere lui apre di prepotenza con il coso attenzione attenzione non è finita ragazzi non è finita micidiale micidiale la super combo micidiale la super combo serve una zap per andare a pulire ci riusciamo a difendere anche dal suo cimitero ragazzi mamma mia che super giocata che ci ha fatto in questo frangente lasciamo pure entrare il la la sua coppia di arcieri ci sposta tutta la partita sulla parte sinistra dell'area di gioco e qua una fireball è assolutamente d'obbligo di nuovo lui parte così di nuovo lui parte così attenzione alla gelo andiamo a scaricare andiamo a scaricare riusciamo in qualche modo a difenderci i suoi scheletrini vanno sulle mie truppe essi essi che siamo in difesa ragazzi essi che siamo in difesa tenterei un altro moschettiere benissimo che lui va a giocare il bocciatore noi abbiamo due moschetti ridietro possiamo giocare uno grader centrale attenzione attenzione dovrebbe tirare il vortex dovrebbe tirare il vortex infatti mi sposta in realtà lo grader dove volevo io peccato che viene colpito comunque attenzione al cimitero attenzione al cimitero ragazzi perché è molto molto insidioso e bocciatore che va a colpire attenzione al cimitero stiamo larghissimi stiamo larghissimi con tutti esatto esatto era ovvio era ovvio loro vanno a colpire non ci possiamo difendere non ci acento valo grider valo grider vediamo se loro hanno modo di andare a fermarci non credo che abbia una zap comunque non gli basterebbe la zap 30 secondi alla fine siamo praticamente quasi alla perdita di questa partita lui apre nuovamente con il cimitero noi non possiamo fare altro che guardare 19 e andiamo a perdere la partita pesantemente molto difficile andare a fermare un deck con il vortice il bocciatore e anche il cimitero però non ci possiamo lamentare andiamo a donare un pochettino di barbari scelti ci apriamo anche un argentino così 81 di gold una torre inferno e 12 spiriti del fuego beh ragazzi io direi che il video può finire qua spero che vi siate divertiti insieme a me e vi ricordo l'appuntamento è questa sera insieme alla nostra pavina noi ci vediamo presto ciao